Ben ritrovati a Camera di Commercio News. Presso la Camera di Commercio di Torino è attivo lo sportello del consumatore che attraverso un esperto online risponde ai vostri dubbi. Vediamo come. Ti hanno danneggiato l'auto in un parcheggio automatico? Quali informazioni deve contenere un'etichetta alimentare? Cosa puoi fare se la tua connessione internet a casa è troppo lenta? Per queste e per altre domande puoi aiutarti lo sportello per il consumatore. Inviando un quesito online in pochi giorni ricevi il parere di un esperto. Sul sito trovi le risposte alle domande più recenti oppure il modulo online per scrivere eventuali dubbi e grazie al quale riceverai gratuitamente alla tua mail il parere di un esperto. Se sei un consumatore e vuoi conoscere i tuoi diritti, se hai dubbi in materia di sicurezza alimentare o se vuoi verificare che prodotti che intendi acquistare o immettere sul mercato siano sicuri avrai la tua prima informazione con una risposta in media in dieci giorni. Accanto allo sportello per il consumatore la Camera di Commercio di Torino in collaborazione con il proprio laboratorio chimico e con l'Università di Torino ha predisposto alcuni strumenti per capire meglio i temi più richiesti in materia di consumo come le pubblicazioni alimenti, istruzioni per l'uso e l'ABC del consumatore. E sono scaricabili gratuitamente anche le guide ai diritti, dal condominio al furto d'identità, dagli acquisti online agli additivi alimentari, per assicurare sia al consumatore sia agli imprenditori l'immissione sul mercato di prodotti e servizi sicuri e competitivi in modo trasparente e concorrenziale. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.